La bilancia hidrostatica è una bilancia a braccio uguali che presenta sotto al piattello più corto un gancio per sostenere dei pesi. Come vedete la bilancia è in equilibrio. Sotto al piattello più corto ci sono due cilindri in ottone. I due cilindri in ottone sono stati costruiti in modo tale che il cilindro inferiore, ossia quello pieno, abbia un volume uguale al volume interno del cilindro superiore, ossia quello cavo. Con questo esperimento dimostreremo la legge di Archimede. Inseriamo il cilindro massiccio all'interno di un becker, in maniera tale che non tocchi il fondo del becker stesso e versiamo poi dell'acqua nel becker. Osserviamo che la bilancia non risulta più in equilibrio, ciò avviene a causa della spinta di Archimede. Dobbiamo quindi cercare di bilanciare nuovamente le due parti. Aggiungiamo dell'acqua all'interno del cilindro cavo. Possiamo notare che il livello dell'acqua arriva all'urlo del cilindro, dunque l'equilibrio è stato nuovamente ripristinato. Questo avviene perché la massa d'acqua che riequilibra la bilancia ha volume uguale al cilindro pieno sommerso dall'acqua. Dimostriamo quindi che la spinta di Archimede è uguale al peso del volume del liquido spostato.